Credo nella musica così come certe persone credono alle favole. Quello che sento è un dono di mia madre e mio padre. Un giorno, tanto tempo fa, si sono innamorati. Che stai guardando? Che. Devo andare. Ti accompagno a casa. No, è complicato. Ehi, ehi. Ascolta, devi dare via il bambino. Laila! Dentro di me, io so che mi hanno sempre voluto. Dov'è adesso? Laila! Da quanto tempo sei qui? Sono qui da 11 anni e 16 giorni. Ho tenuto il conto. La musica. Penso che se imparassi a suonarla, loro capirebbero che sono vivo. E mi troverebbero. Non rivedremo mai più i nostri genitori. Se loro non ci trovano, dovremo andare noi a cercarli. Che senso ha cantare? Lei non vi sentirà. Posso aiutarla? Cerco notizie di mio figlio. Nome? Non lo so. Devi amare la musica più di quanto ami il cibo. Più della vita. Più di te stesso. Al presente, Mozart, era un primeggio musicale. Prodigio. Esatto. Ho visto uno di quei cosi e vive sotto al mio letto. Perché soltanto adesso lo vuole così tanto? Io l'ho sempre voluto. L'onda più calorosa del mondo! August! No! È come se qualcuno mi stesse chiamando. Solo alcuni di noi lo sentono. Solo alcuni di noi ascoltano. So che sembra folle, ma io lo sentivo. Ti giuro che lo sentivo. Fammi scendere! Fammi scendere! È lui. Sai cos'è la musica? Una connessione armonica fra tutte le creature. È intorno a noi. Non bisogna fare altro che ascoltare. Non bisogna fare altro che ascoltare.